È stato un fine settimana da tutto esaurito quello che si è appena concluso, con un centro storico letteralmente invaso da un fiume di persone. Quasi 120, infatti, pullman arrivati in città da tutta Italia, parcheggi presi d'assalto e tantissimi aretini per le vie e le piazze del centro. Insomma, un boom di presenze anche per il terzo weekend di Arezzo, città del Natale. È sempre un weekend molto partecipato e oggi sono in città tantissimi visitatori da fuori, quindi abbiamo tante regioni del centro Italia che partecipano a questa grande festa. Siamo molto contenti, ConfCommercio rinnova il suo impegno per il centro storico, ma anche per i flussi turistici che questa città sta incrementando molto negli ultimi anni. Successo anche per l'edizione dicembrina della Fiera Antiquaria, ma non solo ad impreziosire questo weekend ci ha pensato anche gioiello in vetrina. La due giorni dei dettaglianti orafi di ConfCommercio nel chiostro della biblioteca. Il tema di questa edizione ovviamente è stato il Natale. È un'iniziativa che si è radicata nel corso degli anni all'interno di questo chiostro, di questo splendido chiostro, ancora poco valorizzato, ma direi un gioiello all'interno appunto del nostro centro storico. 12 dettaglianti orafi, la professionalità, la qualità delle nostre produzioni dell'orificeria dell'etina che sono messe in mostra e possono essere acquistate direttamente in questo meraviglioso chiostro. Quindi davvero un gioiello unico.